3PLUS è un sistema di pipa produttivo da Valsier per l'acqua di acqua e l'acqua di acqua di acqua. Si è nata con l'integrazione di migliorare le caratteristiche meccaniche e acustiche delle pipole di polipropilino. Si è sviluppato con il standard europeo. Si è presenta oggi nel catalogo di Valsier, da diversi anni. Si ha una grande range, con pipi e fissure da 32 mm a 250 mm in diametro externo. Le pipi sono producite in diverse configurazioni, per capire tutte le necessità di installazione e minimizzare alcuni scrabbi. In effetti, ci sono pipi con il soccato da un'altra parte della pipa, con una lunghezza di 150 mm a 3 m, e la versione con il soccato da un'altra parte della pipa. A parlare del soccato, il peso di installazione tra le pipi e la fissure di 3 Plus è portato a questa tecnologia, con un sistema di push fit. Il soccato, fatto con un SBR gasketto, che abbiamo trovato anche sulle pipi e fissure, ha una funzione diversa. Sicuramente, per aiutare l'installazione, con la connessione tra le diverse figure, in un modo facile e facile. E' garantita anche l'hidraulico e gassi seal. Anche se il 3 Plus non è intendo essere usato in pressione, il soccato garantisce l'hidraulico con una pressione positiva di 1.5 bar e una pressione negativa di 800 mbar. Un'altra funzione importante del soccato, è l'holloware e mangiare la espansione termale delle pipi. In effetti, è fatto con una specifica differenza, designata per alloare le pipi per slidere uno in un'altra. Allora, torniamoci a le pipi. Sono produciti usando l'extrusion tecnologia, che holloware la simultanea coextrusion di diversi strumenti di materiale. A fine del processo di extrusione, una macchina specifica cutta la pipa legge a una differenza, e poi il processo di termo formato è portato per la costruzione del soccato, equipato con l'elastomeric seal. Grazie alla coextrusion, le 3 Plus pipes sono extrudate in tre livelli diversi. Il livello interno è il livello in contatto con il flusso. ed è creato di polipropylene, un materiale polimerico che resiste molto bene l'aggressione delle principali chimiche che possono essere trovati in flusso. Questo è un livello molto semplice, che evitano che evitano formazioni possibili di deposito. Il livello interno è sempre fatto di polipropylene, ma con l'addizione di minerali di polipropylene, in modo da aumentare l'acustica e di migliorare le caratteristiche meccaniche del prodotto. Il sistema è stato testato dell'accentralizzazione 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 e di impazzioni. In addition, questo strutture garantisce un'accentralizzazione di resistenza anche per l'accentralizzazione per l'accentralizzazione con temperatura di 25 gradi. di temperatura di 30 gradi. La temperatura del fluido che può essere usato con l'accentralizzazione del sistema 3 Plus è di 80 gradi per il flusso continuo e di 95 gradi per il flusso continuo. Il flusso è prodotto da ingeggiare sull'accentralizzazione in polipropylene con l'addizione dei minerali. del flusso Il flusso composto di circa 50 differenze è sicuramente una delle forti di questo sistema che in effetti adattano per tutte le situazioni particolari e per essere collegati con un altro tipo di pipe. Ci sono in effetti diversi per il passaggio di e di metodo piperi all'interno e da diversi piperi piperi Il flusso è molto apprezzato dall'accentralizzazione come combina le caratteristiche meccaniche e acustiche con l'accentralizzazione e l'accentralizzazione di